Si apriranno il prossimo primo dicembre le porte della residenza invernale per i senza fissa dimora o per chi vive in situazioni di grave emarginazione, quest'anno con un'attenzione ulteriore dettata dalla pandemia da coronavirus. Comune, Caritas ed Asl hanno infatti sottoscritto un accordo per la riorganizzazione del servizio che va oltre l'assistenza essenziale e che si configura come una vera e propria residenza per i mesi più freddi. Un progetto dunque articolato che non si caratterizza soltanto come risposta all'emergenza stagionale ma che intende offrire una rete di sostegno e ascolto più efficace nel rispetto e per la valorizzazione della dignità delle persone in difficoltà estrema che si avvicinano al servizio. Molte le novità a partire dalla sede che non sarà più negli spazi di Piazza San Domenico ma in quelli della Caritas diocesana in via Fonte Veneziana, sistemando ambienti adibiti ad altri servizi e già in aperta attivati durante il periodo di fine inverno scorso. Gli ospiti saranno chiamati a rispettare un preciso protocollo sanitario che preveda anche uno screening da effettuarsi con testa sierologico e una specifica formazione al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Ai volontari e al personale specializzato il compito di accogliere, indirizzare, seguire le persone che faranno richiesta di ospitalità e di affiancarle in un percorso di inserimento e autonomia. Con loro tutta la rete solidale di cui fanno parte le associazioni di volontariato, la Croce Rossa, la Misericordia, le pubbliche assistenze e i servizi sociali. Le porte dunque si riapriranno il prossimo primo dicembre per chiudersi il 5 aprile 2021.